Buongiorno a tutti, oggi purtroppo con tutti i problemi che abbiamo in azienda legati alle vaccinazioni, al Covid, se ne è giunto un altro che è stato un attacco hacker che abbiamo avuto questa notte e che ha interessato alcuni nostri sistemi e che in questo momento comunque l'informatica lo sta gestendo. Però ovviamente come tutti gli attacchi prudenzialmente determina delle disfunzioni che prudenzialmente abbiamo comunque affrontato di fatto chiudendo tutti i sistemi informatici che potevano e che possono essere stati interessati. Questo ha lo scopo di non perdere dati e di non perdere informazioni importanti. È stato oramai individuato anche, lo chiamo virus in maniera diciamo semplificata e si sta comunque in questo momento provvedendo anche al ripristino del sistema attraverso i backup che sono appunto delle registrazioni di salvataggio che abbiamo ovviamente installato da tempo e che risalgono comunque appunto da ieri. Allora è importante ricordare comunque a tutti che per fortuna la sanità è fatta da relazioni e quindi da medici, da infermieri, da operatori che lavorano e che continuano a lavorare indipendentemente comunque del sistema informatico. Ed è importante appunto sottolinearlo proprio perché vuol dire che il pronto soccorso, le vaccinazioni, tutto quello che di fatto stiamo facendo pur facendo diciamo in maniera più lenta quindi a mano perché ovviamente i computer ci aiutano a velocizzare, a rendere diciamo più agevole qualsiasi operazione, comunque noi le stiamo appunto facendo. Si sta risolvendo la cosa e ringrazio veramente tutti, sia gli operatori che al fronte comunque continuano a lavorare anche scrivendo a mano referti e quant'altro, sia naturalmente anche gli operatori dell'informatica che stanno lavorando allacremente da questa notte per la risoluzione appunto di questo problema. Allora ricordo, è importante anche questo, che l'attività di vaccinazione anche di tamponamento e quindi di controllo soprattutto di tracciamento appunto di nuovi casi sta continuando ed è importante anche ricordare che ieri abbiamo raggiunto il numero di 9.000, 9.000 qualcosa vaccinazioni in un giorno, numeri appunto molto importanti, grazie all'aiuto non solamente di tutti gli operatori dell'azienda Euganea ma anche dell'azienda ospedaliera, anche dello Iov, anche dei medici di medicina generale, anche delle farmacie che si sono appunto prodigati tutti proprio per raggiungere questo numero che a ospico appunto venga mantenuto nel tempo e che ci possa davvero garantire quel pass di uscita da questa pandemia che diciamo si è un po' rialzata, ha rialzato un po' il tono con la quarta ondata in queste settimane.